Grazie mille, grazie mille, grazie mille a voi, grazie mille a Borderline, a Ostaf, a Malmo Casano che siamo noi, noi siamo i più lo, ma in salto a lì, è la prima, è il passo, si no è, con il giù. La batteria La batteria Emanuele 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 La guitarra La batteria Emanuele Emanuele La torre della duella Emanuele Emanuele La batteria Emanuele Grazie a tutti Sondaggio, sondaggio 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 L'ultimo!